Abbiamo sotto gli occhi un chiaro progetto politico dei governi che portano avanti dagli ultimi anni. Un progetto che punta da un lato alla distruzione della scuola pubblica, alla distruzione dell'università pubblica e all'alimentazione del diritto allo studio. Dall'altra parte alla decostruzione dello studente come parte sociale attiva. Questo attraverso una falsa immagine che danno di noi. Gli studenti ora sono i fannulloni, sono i bamboccioni, sono quelli troppo esigenti, sono quelli violenti. Ma la vera violenza non è la nostra, ma la vera violenza è loro, è la violenza di Vittaglia sulle nostre teste. Noi dobbiamo distruggere questo progetto, noi dobbiamo distruggere continuando a lottare insieme e a scendere in piazza. Studenti medi, universitari, docenti precari. Dobbiamo continuare a costruire insieme l'università e la scuola del 90% e di prenderci ciò che è nostro. Ma quale crisi, ma quale austerità! Ci riprendiamo tutto, invadiamo la città! Ma quale crisi, ma quale austerità!